Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare due sfide in una. Praticamente sono entrambe sfide che riguardano la stessa cosa ma in modo diverso. La prima sfida è quella di distruggere dei raccoglitori. La seconda sfida è quella di utilizzare dei resti di questi raccoglitori per infliggere dei danni. Ma che cosa sono questi raccoglitori? Praticamente di recente sono stati introdotti in gioco gli ingordi di Galactus. Non so se avete mai incontrato quelle sentinelle davvero potenti che hanno dei raccoglitori, dei robot appunto, nei dintorni a difendere queste torrette, queste sentinelle o come volete chiamarle. Tutto quello che dovete fare è distruggerle per completare una sfida e una volta che le avete abbattute dovete raccoglierle ed usarle come armi. Ora, la posizione di questi ingordi di Galactus o raccoglitori non è sempre la stessa. Ho pubblicato una mappa nel canale, nei social, dove vi mostro la posizione dove solitamente compaiono. Ovviamente questa sfida non può essere fatta in rissa squadre. Io ora andrò in tutti i punti dove solitamente compaiono e se ci sono vi mostrerò appunto quali sono i raccoglitori e come completare le sfide. Uno dei punti è questo, e non c'è, quindi andiamo in un altro possibile punto. Il consiglio ovviamente è quello di utilizzare un elicottero. In questo modo, diciamo, potete raggiungerli velocemente e facilmente. Non dovete armarvi di tutto punto perché i raccoglitori sono molto deboli, quindi possono essere distrutti facilmente. Infatti la sfida ne richiede 20 e richiede un certo numero di danni con i raccoglitori. Ovviamente potete fare danni a chiunque con questi raccoglitori. L'importante è, diciamo, raccoglierli e non distruggerli completamente. Quindi dobbiamo cercare questi ingordi di Galactus. Ora, visto che la loro posizione è random e sicuramente trascorrerò molto tempo a cercarli, ci rivediamo tra poco, quindi appena ne trovo uno riprenderò il video. Rieccomi ragazzi, l'ho trovato a siepi d'agrifoglio. Eccolo qua. Non potete sbagliarvi perché il colore è rosso, cioè sono pure grandi, quindi non potete assolutamente sbagliarvi. Ora, dobbiamo procurarci un'arma perché altrimenti in questo stato non posso fare assolutamente nulla. Quindi mi serve un'arma. Adesso me ne prendo una e vi mostro i raccoglitori e come fare per usarli. Quindi atterriamo qua, prendiamoci un'arma, sperando di trovarne una. Eccola qua. E mi reco dai raccoglitori. I raccoglitori sono questi robottini, vedete? Dovete distruggerne 20, dopodiché raggiungerli e prenderli e usarli per fare danno prima che scoppiano. Quindi ecco, dovete sparare e fare danno. Potete anche fare danno alla struttura, credo, o agli avversari, i bot. L'importante è che fate danno. Una volta che avete fatto un certo quantitativo di danno, allora avete completato la sfida. Eccoli qui, i nostri amici raccoglitori. Quindi, diciamo, dovete cercarvi la posizione dei raccoglitori perché il random è casuale. Come vi ho detto prima, non compaiono sempre allo stesso punto. Quindi potete utilizzarli, come potete vedere, per distruggere queste strutture facilmente, insomma. Come potete vedere. E così farete due sfide in una. Grazie a tutti.